L'ennesima fabbrica che in Val Vibrata chiude i battenti, la Martelli Tessili, che è qui a protestare e a chiedere cosa? I lavoratori sono qui fuori la provincia perché l'azienda ha aperto la procedura di mobilità per cessazione. Tra l'altro dopo praticamente due anni di confronto con l'azienda su quella che era la prospettiva dello stabilimento di Ancarano, la Martelli Lavorazioni Tessili è una multinazionale che ha fatto pesare la crisi in questi anni praticamente solo sul nostro territorio. Oggi c'è da fare una chiusura definitiva e la fanno sullo stabilimento di Ancarano, quindi sempre sul nostro territorio e vogliono andare via tra l'altro senza concedere almeno la possibilità di fare dei passaggi che possano essere utili a fare una verifica sulla rioccupazione. In questo senso si era impegnato anche l'assessore Lollia, aveva fatto anche delle proposte alla direzione aziendale che ha risposto picche. Tra l'altro l'azienda ha aperto una nuova società, ha avviato una nuova impresa sempre nello stesso stabilimento e non si impegna comunque a tentare di ricollocare quelli che sono la Martelli. Sono state fatte proposte anche per la formazione, per appunto una riconversione delle maestranze. Da questo punto di vista non c'è stato ascolto da parte dell'azienda, per questo oggi i lavoratori protestano ma stanno picchettando tutti, almeno un giorno alla settimana. Però poi c'è un cinismo di fondo e anche una mancanza di rispetto di un territorio, ripeto, e anche delle persone che hanno lavorato per 30 anni in questa azienda contribuendo a farla diventare quella che è.